potenziamo questo beniamino dell'oscurità 50% dei danni in più durante gli assassini sfaga attacco furtivo più potente e infliggi danni raddoppiati rispetto al normale ma consumano la determinazione no allora lasciare questo il tempo di ripresa dell'abilità di classe del 15% ah beh non è male questo quasi quasi aumenta di 1 il numero di oggetti leggendari con cui puoi equipaggiarti ah ah beh mica male ok non fai rumore mentre corri perfetto che va da genetà in più effetti da barcollamento ok i colpi critici e gli assassini riducono tutti i tempi di ripresa delle armi spettrali di sec va bene l'effetto del vene danneggia anche la salute dei nemici buono ottene due colpi in più ah uh buono assassinando con successo un nemico mentre stai in ecco so si è occultati li attivo occultamente e segnale questa è una durata mentre bisogna il numero di oggetti leggendari è proprio equipaggiato ma il colpo di uno è un 100% di danni in più per la madonna questo è utile cavolo ok quando vuoi ok let's go allora io o io cos'era allora con calma non citiamoci come messaggio oh che cosa ho visto adesso il messaggio come no il messaggio il doggo bello vero bello il doggo bello però mi sento un po' in sensazione non si sente in sensazione la prego mi sento mi sento ma non ho fatto ottima scelta ottima scelta sì oggi sono andata a Genova e ho visto una mandria di topi te lo giuro ho visto c'era all'inizio di San Vincenzo scusami di Gaventi c'erano degli castanetti della della spazzatura c'erano questi 5 topi che prendevano cioè hanno fatto la spesa in pratica erano bellissimi eh beh anche loro scusami no vola satta ma in sincrono satta vola ora oh no 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 occhio occhio satta aspetta mi sa che non ci arrivo io aspetta no vaffanculo mi sono ok io l'ho fatto comunque l'ho preso al volo si no ma a me è venuto uno spasmo che mi ha fatto missare sì ma io sono vestito da arciere non sono vestito da assassino vedi poi mi vestirò da assassino aspetta che mi devo aspetta 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 mi devo vaccinare vai vaccinare avvicinare ah ecco cosa l'ho tolto la testa col calcio perché tu hai la postura della luna e la postura della luna serve contro i bruti c'è un tipo lassù sì però non ne puoi avere sbagliato ho fatto triangolo quadrato va tutto bene aspetta 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 che arrivo anch'io occhio perché ce n'è uno subito lì che in teoria si assassiniamo yeah aspetta aspetta allora uno uno aspetta uno lo faccio con la freccia Pronta? Vai Madonna Madonna Ma c'è questa gente? Ma che cazzo li ha visti questi? Li ha visti dopo questi? Ma io Vabbè Va tutto bene Li abbiamo visti L'importante è quello Vieni su che ti curi Sto male Ma è possibile Che ne dobbiamo sempre combinare una Vabbè però Aspetta che ti rai Hai visto come ho Hai visto come ho Ho massacrato il brutto con Ho visto Ho visto Che sto male Tipo oggi Tipo oggi Sì, è una cosa bellissima Ti giuro Eravamo lì io e Lu Che finalmente siamo riusciti a unirci Cioè io a unirmi Alla sua sessione di gioco Riesco a unirmi Ma lui alla mia no Quindi vabbè Ok Non sappiamo il perché Ma poi va così E' quelle lampadine Belle Lampade Vabbè Un vento impetuoso Gonfio le vele Più il tempo passava Più si avvicinava E praticamente Poi a un certo punto Stavamo camminando in mezzo a questa prateria Bella Tutta tranquilla E cosa All'improvviso Mi giro Vedo questo Mega drago Gigantesco Bianco Con quattro ali Quattro gambe Tutto aveva Quattro di tutto Vedo questo Immenso bestione Che è a terra Schiantandosi al terreno E io mi giro Verso lui E gli urlo Drago Di che si gira E dice Come drago Oddio Oddio come esce Rack Più o meno È vero No ti giuro Oddio Ti giuro Ma è stata bellissima Io ti vado a cercare Il pezzo E te lo mando Perché è bellissimo Come esce Rack Stavano No ti giuro Adesso faccio Ci faccio Ci faccio il video Mi salvo Quel pezzettino lì Me lo scarico Me lo metto lì E poi subito Dopo metto Quella cosa lì Di ciuchino E Shrek Perché ti giuro Ero lì così Tutto bene Rob E te invece Che stai Bello tranquillo Ero lì così E urlo Drago Che è stato bellissimo Che è stato Scoppiato tutto Non ho capito Stupiti tirati Ho spaventato Ho visto dei piedi Passarmi sulla testa Ho detto Beh Che vuol dire Oddio ci sono i Ronin Ma stupido sto cosa Sta arrabbica Aio Eh i Ronin Sono forti Attenzione Fanno venire qua Fanno venire qua Con il mio soffio Bruciato Ok E io 84 Lei un po' Molto meno 30 mi sarebbe D'aver visto Cosa Lei dice Il chi Cos'è qua Pazzo Non c'è niente Emma No 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 C'era un tizio Che si lamentava Eh Quella tirà sopra Non hai paura Sopra 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 non c'è nessuno E invece Sì c'è un tizio Va sopra Io ho sentito Dall'altra parte Non ci capisco più Un cazzo Non vedo niente No 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 Ma non si muoveva Che l'avevo Distrutto Ma lo faremo Ancora non ci controlla Liberateci E andremo in pace Ci metti proprio Dell'impegno Per distruggerla Sì sì Proprio Ma una seconda nave Si precipitò A bloccare gli spettri Ah c'è gente Attaccandoli Uè Azz 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 Grande pioggia Attenzione Uh Sto cercando La cura Cosa sta andando lei Stavo cercando la cura Per te io Dove sto andando Sto morendo E appunto Oh no 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 Attenzione E io non posso curarla Ma lei non è un Ronin Non può curarsi Ma non faccia Aspetti Aspetti Eeeh No perché mia sorella Mi ha tolto il No Ho tolto la cosa Ma devo andare di là Non ho capito No no Bisogna solo sfuggire a queste frecce Mi ha preso Mi ha preso Sono caduta Sulla caiole Ma si è caduta Dove sei finita? Sono caduta Nell'acqua Noo Arrivo Ok Sono rispawnata Ovviamente Esattamente Un bel gesto Ok Morro Corro Ho sicuramente Te pure Ma non lo so Che parola Magari dai moderatori Ma perché vieni sempre da me? Basta Aiuto Non posso andare in alto E ma vieni qua Da me sono io Vieni qua dove sono io E siamo riparati qua dentro Almeno Non lo so Funziona così? Non credo Io mi sono rintanato Io non arrivano anche qua Arrivano Ma non è possibile Ahia fa malissimo Aiuto Ma perché? Non ho capito Scusami ma che cazzo di frecce Aiuto Che cazzo di frecce sono? Aspetta no C'è qualcosa che è sbagliato C'è qualcosa che siamo Sì Cioè È impossibile Allora Aspetta un po' Dove sono i Ho trovato Devi correre Tutta in fondo No Mi prendono Ai Che dolore Arrivo Sono dalla cura Se questo qua Corresse un po' di più Ah ecco perché Ci hanno Ammainati Sì no Come cazzo dici Ci hanno Abbordati Ci hanno Abbordati Ci hanno Abbordati Sì Abbordati Ok I'm here I'm here Ok andiamo Ok ok Aspetta 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 Per ora Ho avuto La spalla Tutto in alto Cos'è successo? Fatto io Mi fa Ti posso far esplodere Mi stiamo un po' calma Mi rimane Ma che qua È un pandemonio Assasinio No Me l'hai assassinato Scusa era per la sopravvivenza nice che cazzo ma noi facciamo adesso un po' di questo poi andiamo torna alla nave dobbiamo tornare indietro impaziente di salvare oee eia ehi l'ho sbagliato ok ah è finita stai arrivando tranquilla c'è tempo ma non potete scappare da nessuna parte spettri il mare è un luogo spietato venite e abbinate la potenza del mio esercito ah ma è Sukhbata l'abbiamo completamente ce ne siamo andati prima che potesse finire siamo delle persone di servire Sukhbata perché egli aveva promesso loro ricchezze immense e Tsushima come porto sicuro aspetta no cosa fa aspetta si è messo a salutare ok come si è salutato aspetta 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 questo lo posso fare con la freccia appena si oh oh le penso io al al coso finchia perché l'ha lanciato fin là un vecchio molo condusse gli spettri in fondo a un cimitero di navi arenate ma dove sei andata ti ho visto volare che senso eri qui hai fatto un saltino e sei volata qua sopra a caso e poi ho visto ah ho fatto così si ma hai fatto un volo incredibile no hai fatto un volo incredibile no non lo so non lo so hai fatto io volo salta io volo sconfiggi i banditi ronin e mongoli bene salta lista della spesa non si dicono queste cose ma che pietà non farmi rire che già per tutto tutta la serie di cosa ho dovuto trattenere le battute sono in acqua scusasse come sei in acqua ma è perché io mi suicidio suicido aspetti eh che arrivo si si ho sbagliato ho sbagliato schivata non sarei già morta nella vita reale non sai nuotare no non è inutile sono un essere umano inutile ma cazzo ma cade ha dei disagi come me questo personaggio rimani un attimo nascosto che arrivo ma io sto uccidendo non so ma non uccida che voglio uccidere anch'io ho capito mi attaccano cosa devo fare ma mi aspetti guardi eh venga aspetti guardo sono ijack vai non salta oppla eccola lì oppla oppla e percevo carata salta pazzo eeeh serviva si scusa scusa non volevo oh sento fallo venire qua fallo venire qua 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 viedero la pace agli spiriti dei mongoli si ma non butti laggiù ho capito ma perché pensavo venissero verso di qua pure attaccati c'è la cura c'è la cura la difesa vabbè uguale la difesa mongola andiamo senti la santa che fa ridere questa cosa vogliamo cosa è questa luce blu basta le luci blu perché sei entrato qua dentro che mi fai impallare perché pensavo si potesse uscire dall'altra parte senza salire invece non è vero mi hanno mentito ecco ecco ha fatto la bossa così adesso lui va avanti e mi uccide tutto in realtà non so dove andare quello è il problema dovrei andare di qua andate in acqua sono salito va bene sono sulla pina tanto io devo andare a prendere le fleccine qua sono anch'io qua occhio guarda faccio niente faccio finta di niente faccio finta di niente non so dove grande balzo dall'alto eia stupido no ti è assassino ma ma non ho capito è arrivata io dall'altro l'ipotente ma è morto a caso no sono arrivata io ho visto un bug allora io oh eccoli ma che cazzo fa? furono liberati del vento la furia del Ronin io non ho capito perché tutte le volte mi melano anche se paro è perché fanno magari mosse che non puoi parare fammi un po' vedere ho capito ma a te non prendono e ma io mi sono fatto 60 ore di gioco posso essere un pochettino più forte cioè non ho capito allora allora io se c'è un comando per parare ed è uno io voglio che mi pari sì ma non può parare tutte le mosse ci sono mosse che sono imparabili anche nel gioco base è di qua comunque e io voglio andare in acqua vada vada io non la trattengo no no è buio com'è buio? dove sei finita? arriva 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 ma porca miseria vola ma volo aio dove stai andando? sono preso il palo nel sedere e sono caduto ma satta no no tu non hai idea di quello che ho visto tu non sai non domandare devo venire a prendere le mie frecce sono entrato dentro la nave ma proprio dentro e sono schizzato fuori facciamo fare queste cose? eh non l'ho fatto io l'ho fatto lui non nuota satta del conto corrente satta non nuota ok fai come i dori prima una pinna poi l'altra arrivi allora chi è che manca? ma vantale oh ce n'è uno due sono tutti i spessi no fanno venire in qua uno l'ha preso ma gli arcieri non vengono lì sì che venivano questo è venuto eh ho capito ma quello lì era un lancere non un lancere non è vero non è vero eh sì ho fatto io sono caduto madonna mi sono spaventato pensavo fossi un nemico però è che paura sta esplosione siamo impazziti no vedi ma porca laiva la troia gli spettri liberarono le navi dagli spiriti ma ti sembra almeno il caso di lanciarmi le cose? no no invece uccidi è succupata cioè il cattivo cattivissimo eh perché cado sempre il personaggio ho un po' di bunker stasera ma va bene se ci si può ma questa è cura non ci cura la cura per forza perché c'era aspetta occhio salta attento colpo critico no potere 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 i piccoli non sale ma sale questo qua è grosso sale è quello del boss è il mega boss della manciuria è il potere del fuego no c'è un nemico ce n'è ancora uno aiuto nooo che slurfa che slurfa che slurfa no aspetta no 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 adesso ci pianto quale ok fuggivano era fuggirà è svenuto fuoco piace un botolo perché fuoco marcia qua aiuto panico proteggimi no che dolore arrivo io ho venuto da qua perché se no un po' critico crepo 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 anch'io vincita non crepiamo vai in alto se mai se crepiamo è finita vai in alto vai in alto è stato venato mi ha fatto mi ha fatto un attacco prepotentissimo vai con l'arco ci credo attenta che sta pushando è lì corri 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 dai un po' di fumo uso il potere uso il potere mistico ti è questo l'ho ammazzato ci ho fatto madonna che è 18 qua madonna lo sbuffo di fumo è fortissimo però parca il portale tori per concludere la storia e da corri più che puoi perché se ci tirano un colpo ce la dobbiamo rifare da capo è fortissimo che ridere a me è piaciuto quando io quando io ho ucciso uno sei arrivato e gli ho buttato una polvere ad ossa e hai fatto fuoco a caso è stato bellissimo questo personaggio che facciamo unire da ridere la donna ma l'assassino è bello mi cambia un attimino i vestiti ci sembrava mi avessi buttato un pugno di sabbia addosso lo so le cesta degli spettri sono meno male che ci facciano ridere epocale sto gioco epocale ma ti giuro neanche con gli altri mi divertivo così tanto di amore ma no ma no ma perché ma che cazzo ma perché parte l'ignoranza mi vuole si si completamente addio allora allora cos'è che aveva detto calci 15 minuti che mangia arrivo sono dettagli dettagli futili dettagli puro coraggio no mettiamoci questo devo mandargli Gandalf aspetta che devo trovare Gandalf non mi toglierò più quell'immagine esatto il tipo che me l'ha sbuffato dal fuoco da te che butti la polvere sopra un tizio ormai morto ma porca oh dio sarà un ricordo della storia oh dio ho fatto bene ho fatto bene c'è la live tanto si però la mia visuale era una cosa e se salvia adesso ce la fai credo si aspetta ci provo bellissimo bellissimo è bellissimo passare con anni bellissimo ti giuro ah mi sono bruciata no ecco la stufetta sono andata troppo vicino non si avvicini troppo a mi sto innamorando dell'assassino comunque te lo dico è bello non mi piacciono tanto i vestiti cioè i vestiti quelli più belli sono quelli di quelli con io i ronin i ronin è bellissimo ah non male la pepina vabbò quando vuoi intanto continuiamo ad andare avanti per me fa più che bene mi diverto sono andata di quel casino dio buono e poi controlla un po' anche per la difficoltà perché noi la finiamo a modalità facile eh sì poi si deve ricominciare la possiamo anche rifare a difficoltà più alta ma è ovvio che la faremo tutti perché io ce n'ho uno allora io ne ho uno in realtà mi si scalda al cuore sentiti dire che li faremo tutti mi piace eh no perché è bellissimo cioè allora perché noi dobbiamo riuscire ad arrivare a sopravvivenza sangue e acciaio e riuscire a fare il platino ma sopravvivenza è diversa dalla storia eh sì sì però dobbiamo farlo perché c'è un un vestito bellissimo poi che mi sbloccano se riesco a farlo capiù sì lo sai che che il minimo consigliato ma che difficoltà basta a qualsiasi no ma non adesso io adesso non riesco a farlo no no vabbè ora ci facciamo ti potenzi guarda che posso non fare la storia io volendo ancora non posso farlo io il platino eh comunque no lo so no 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 bisogna arrivare almeno al 105 ma sì sì però perché è quello consigliato beh scusami se ci rifacciamo le missioni storie anche a difficoltà più alta viene bene perché non riusciamo a farle facciamo a difficoltà più alta così almeno fai aumenti la potenza poi si può fare sempre anche sopravvivenza in modo da da fare da aumentare anche lì facendo difficoltà più alte tutto ci può fare allora a parte che io facendo tutte queste cose qua non prendo mai niente guarda quello guarda quello il pazzo guarda i pazzi la 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 a dove? vedi vedi là i pazzi ah sì sì li vedo uno qua oh voglia aspetta uno qua aspetta sì sì sono due due mortai che comunque lì c'è un tipo ah lì c'è un tipo col cane che che ci ha visto un altro tipo vabbè che ci ha assassino oddio il cane che cazzo è il cane il cane cattivo a te lo dico il cane cattivista attenzione occhio corri ma corri no no la porta dobbiamo andare oh c'è un buchino mi infino mi insinuo insinuo tira il buchino ma c'è un tipo mi sono spaventatissimo aiuto c'è il buchino insinuo aiuto io vorrei cercare di uccidere loro sopra eh possiamo andare ci sono le scale qua sì 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 adesso ci andiamo ma a parte che non è una persona è proprio tutto il coso eh sì oh madonna continuo a schiacciare aiuto sono caduto fuori ok però devo raggiungere quello qua dentro mi sa la porta era sbarrata la porta è sbarrata non posso spingere semplice no troppo easy non lo so easy più easy la mosquisi ma non si possa siamo bloccati per sempre in un loop infinito aspetta aspetta qua c'è un tinge vieni di qua io mi sa che ho trovato ah c'è la polvere poteva ritorciargli si contro qua c'è la polvere ho preso un barile io che sono fissato dove stai andando lo so lo so lo volevo raggiungere qua sopra ma non riesco volevo raggiungere i tizi mi servite arrivo no 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 devi scoccargli la freccia ah ti ho visto correre con prepotenza ok con una fragorosa esplosione una fragorosa esplosione oh c'è stata quello sopra qua dietro c'è l'altro mortaio lo vado a fare io cosa è successo? cosa è successo? lei ma è collassata oh c'è stato oh c'è 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 i cani maledetti mica un ghec cattiveria oh c'è 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 c No, no, si buco Oh mio, ti vedevo troppo impanicato Eh sì perché non c'è spazio Io non capisco Mi stavo chiedendo perché prendessero fuoco Ah abbiamo finito Dentro una scala praticamente Dentro la colonna sementato Dentro la colonna Dentro tutto Un altro spirito del fuoco si annidava nella torre oltre il cortile Ma sei caduto Io mi sono ritrovata sulla corda Allora, con calma sotto Adesso bisogna fare le cose con calma Ah siamo sopra adesso Non potevano farci andare direttamente sopra Invece di farci fare la passeggiata lì No, non mi hai visto Non mi hai visto tu Ok Chi è che ho visto? Ah quello è sopra sai? Hola Ecco, bravo Aspetta Per la sopra Porvo Ma No E adesso cosa facciamo? E ora? Ma Emma Emma Andiamo Andiamo Ho capito ma Siamo un po' esagerati Questa E che cosa? E mica è ripenetrata dentro di me Non ho capito Mentre io Eravamo un tutt'uno Un essere unico Aspetta aspetta Voglio vedere se ci sono delle frecce Perché Oddio Oddio Emma Aspetta Entri lei Madonna Che è successo? Le api Le api Le api Le api Aspetta che c'è gente Occhio Aspetta Ehi 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 Aspetta Il panico La quale è un bel punto Sì bravo Sì bravo Sì bravo Sì bravo Adoken adesso Ah hey Oh no Aio Com'è? Andata bene? Perfetto Sì Eh sono esplosi Cazzo Aspetta No l'unico barilotto che avevo visto è morto È qua È qua È qua Eh no Lì dobbiamo Di Barilotto Ah dobbiamo aprire però Dobbiamo prendere il barilotto No sì I barilotti sono qua Sato è pieno Queste è questa Ce ne sono sei Cazzo gli ha viste Erano al buio Perché tu ci vedi lì Oh Tipo Aiutelo Aiuto Che slurp Proprio Basta non ho mai capito cosa ho fatto Pazzo Ok io ho aperto Ah ah come mi ha lisciato Stupido Lo puscio Niente Freccia Ok Gli spettri arrivarono agli alloggiamenti Questa che devo fare Provate i piani di battaglia di Io Occhio che c'è gente là Let's go Into the moon Into the moon Così A caso Sì 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 Rimani 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 qua No no Vieni di qua da me Momento di panico Desegnerebbe prendere Guarda quello lì Che cosa fa Ok vieni 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 Con che prepotenza C'è un arciere là sopra Ci hanno visti Scappa 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 Ahia Scappa 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 Guarda 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 Aspetta È proprio scoppiato quello Male proprio C'è un tipo qua dentro Per te che L'orecchio sempre perché Sempre C'è la fissa dell'orecchia Questo lo faccio io per te Ma mi ha visto Non pensavo Non pensavo fosse girato Era rannicchiato Comunque qua sopra c'è roba Per le Oh tipo Orecchie Io devo fare lo torino Ah ma c'è un po' Qua Alla smetta di aprire Tutto lei Però vorrei Ho scraffignato tutto Qua ci sono le frecce Arrivo Ce la fa questo A scendere Ok Me ne va Voleva Voleva Ballare un po' Di macarena Mi viene da vomitare Ok No Andare avanti e dietro Questo Allora 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 Vedo un tizio là In altre case E' vero Volevo a prendere questa qua Nella casettina carina Ma io qua Io non c'è due Non sono per voi Chi è I miei guerrieri Vi stermineranno Non si deve agitare Oh madonna Attacco Di non agitarsi Fuoco Fischia Ma l'ho preso questo Perché non l'ho preso Si è baggato Eh tu cosa vuoi Fischia Ma tanto prendeva fuoco Quello era morto C'è un oggetto laggiù Non è l'oggetto laggiù È sempre quello che dobbiamo raccogliere Ok tu vai a raccogliere Ah io devo ancora raccogliere quello Non l'hai raccolto qua sotto Eh si che l'ho raccolto Mi si è baggato Quel testo è sacro Muorirete per averlo profanato Mi è stata a non profanare Per piacere Ma non l'ho fatto apposta Non faccio cose so Capito mi date colpe Che non ho Ah buu Fumo Sabbia Cosa? Sabbia Dobbiamo dargli un nome Come lo chiamo? Sabbia Sabbia? Quindi urlo sabbia Aspetta qui Aspetta Fermo C'è baggato Ma stai facendo? Vai 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 Eh a destra C'è gente che mi vede Cazzo Vado dall'altra Io però Ti è Non mi guarda Non ho capito niente Di quello che è successo Ma vabbè Non importa Non importa C'è un problema Si è baggato Cosa facciamo? No Non me ho Non me ho dire Eh mi sa di si Io pensavo Che fosse uguale Allora Il tuo è aperto Qua c'è la finestra chiusa Io non ho aperto Che palle Non si baghi La prego La prego Non si baghi Eh Si è baggato Di raccogliere Non raccoglio Non viene a ricominciare Maniac Aspetta arrivo di sbaguto io va bene si apre ad un'azione aperta ma gli spettri ma non ho capito scusa ma io sono andato oltre il coso non ho capito io intendeva usare un nome di chi raggiungo rotolando guardami rotolone i spettri salirono sulla cima del forte e trovarono la porta di ferro chiusa ma siamo sempre qua e si è ma vado a prendere le frecce no ci sono gli adepti lasciami l'adepto devo farlo da prendere le frecce io non sono ancora entrata e son qua ecco buco 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 le forze di io a parvero dal portale di sangue eccola ha detto sui allora ma facciamo una tattica ascoltami allora che molto io vado d'accordo muori bella e mostrato che vuoi ucciderla io maledetti vostri occhio porca sabbia potere levate vissi si capisce niente puerto ai 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 oh Oddio Chi è? No No Cazzo troppo Scusami Sato Schietto sempre Ma perché non ce l'ho di più? Sabbia Porca porca Sabbia Guarda, guarda Che cazzo sono questi? Non sono Sono i cani di satana Ciao calci No, 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 no Eh dai però Non riesco a muovermi Che mi ammazzano questi Cosa cazzo è il tuo cipolle? Eh, eh La pottina Porca troga Burca Ah, fuggi Potere, potere Tiè Ma che cazzo è? Ma vabbè È il mio cane Guarda, guarda il mio cane Come è stato bravo Mi stava impanicando il tuo cane No, no, il tuo cane aiutava Ma quindi, quindi Ci siete? Non ci siete? Non ci siete? Sì, sì, ci siamo Arriviamo Finiamo questo Arriviamo Con questo abbiamo finito la storia In teoria E in cima a una collina E ma Porca tu Aspetta, arrivo, 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 arrivo Faccio una cosa Non la faccio più Sto crepando malissimo Minchia, se mi hanno disintegato Fumo Senta, non crepare Urca la paletta Aspetta, 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 aspetta Aspetta, io faccio una cosa Mi sono ammazzato Ok Mi sono ammazzato Ho pushato I cosi No, questa la devo vedere Ok Che cosa? Mamma mia, cosa abbiamo fatto, Satta? Il 3G Ma io l'avevo fatto il re 2 Perché non l'ha fatto? Vole detto Ma Satta, mi fa gli comandi Dio, non si attraversa Ora sì Non abbiamo attraversato Let's go, Satta, let's go Mamma mia, cosa abbiamo fatto Comprensione assoluta Ho preso il trofeo Anch'io Non l'avevo ancora fatta io questa, mi sa Perché mi mancavano almeno 2 o 3 atti per finirmelo Madonna mia Oh mio Dio Ema, c'è il pacchetto BTS Oh, ma cosa ci sono i balletti? C'è il ballo dei, sì, i balletti dei BTS Ah, ce l'ho già, ce l'ho già Tutti, tutti Sì, sì, sì Sono due, no? Ho tante leggende in serbo per voi Sono due, vero? Matte? Mi fa del panico se non gli rispondi, Matte Eh, non ho capito Sono due, vero? I balletti? Sono due, sì Ok, ok, allora ce l'ho Allora, Oni del Crepuscolo, non so che cosa sia Ma ok Oddio, ma quante ne hanno aggiunte? No, Satta c'è pure la nostra C'è pure la nostra È stato sbloccato un succo di roba Allora, cacciatore Grado Ronin Esatto, c'è pure la nostra C'è pure la nostra Questa la dobbiamo prendere Eh Eh, Macarena Io ce l'ho, ce l'ho la Macarena Io non posso prenderla Ce l'ho la Macarena Io non posso prenderla la Macarena C'è anche Improvvisa Pollo Ma? Cosa? Non dirgli Jimmy C'è un ballo che si chiama Improvvisa Pollo Devo vederlo Lui appena gli dice Jimmy Sì, sì, io mi sto sbloccando la roba C'è un ballo